Allora, suonerò a partire dalla nota MI lunga, poi ancora una volta la nota MI, però con una durata più breve, così come le note che seguono, che saranno il FA, SOL, FA, MI, RE, DO, MI, FA, SOL, FA, MI, RE, DO, RE. Lungo, il RE sarà più lungo e mi fermerò qui, poi ricomincerò facendo con una durata più breve, DO, RE, MI, FA, SOL, FA, MI, RE, DO, mi fermerò, queste sono brevi, tutte brevi, di durata breve. Dopo essermi fermato farò, con una durata breve, DO, MI e poi concluderò con un DO lungo. E' un DO lungo. Attenzione, avrete notato, avrete sentito una differenza tra, in questa serie di suoni, in questo esercizio, tra note che vengono suonate distintamente per ciascuna, quindi il suono TA e si ferma, e poi invece un suono continuo, da nota a nota, questa serie di suoni continui si chiamano note legate, mentre le note suonate distintamente ognuna, per conto proprio, si chiamano note staccate, va bene, ma questo sarà oggetto di un video dedicato appositamente a questo argomento.